Eccoci tornati qui a New Manu Adams, come sempre! Oggi ragazzi vi farò sentire con il flauto dolce mio una canzone, e in particolare vorrei far ascoltare la primavera del più celebre compositore veneziano Antonio Vivaldi. Allora, oggi ho fatto la recita, mi è piaciuto, dopo vi racconterò i particolari. Oggi metterò in vendita questa maglietta su ebay e farò un video con il link. Ok, iniziamo subito. Ok, iniziamo subito. Ok, iniziamo subito. Ok, ve ne ho suonato un pezzo. Non so se vi è piaciuto o no. E niente, questo qua in realtà era un playback e adesso ve la canterò veramente. Lo so, non sono come lui però... Bravo. E' piaciuto? E' piaciuto? E' piaciuto? No. E' piaciuto? Grazie a tutti. Spero che vi sia piaciuto tranne il finale che ho fatto una cosa del genere. Ciao!